I finanziari del Comando Provinciale di Catanzaro hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misura cartolare in carcere emessa dal Tribunale di Lamezza Terme nei confronti di una persona per spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento giudiziario giunge al termine di complesse indagini di polizia svolte dal gruppo della Guardia di Finanza di Lamezza Terme tra il mese di ottobre del 2022 e il mese di giugno del 2023. Le attività investigative sono iniziate dopo una segnalazione pervenuta alla Guardia di Finanza dal servizio di Vasilanza Anduanera Spagnolo che aveva sequestrato un pacco destinato in Italia rinvenuto dal personale della sicurezza di una ditta di trasporti di Madrid contenente 3 kg di sostanze stupefacenti tra cocaina, hashish e ecstasy. Sebbene il mittente e il destinatario non consentissero di individuare immediatamente il responsabile della spedizione i finanzieri sono comunque riusciti ad individuare nel destinatario dell'ordinanza il mittente e in suo figlio il destinatario. Dalle indagini è emerso che l'uomo tratto in arresto si riforniva stabilmente di droga in Spagna e la portava spesso con sé in Italia, tanto che una volta era stato sorpreso con oltre un chilogrammo di marijuana. Nell'ambito dello stesso procedimento penale sono stati indagati anche altri due soggetti per il reato di spaccio e tre persone acquerenti dei stupefacenti per favoreggiamento personale in quanto queste ultime, chiamate dalla Guardia di Finanza a riferire sul loro rapporto col presunto pusher si erano rifiutati di rispondere alle domande, aiutando in tal modo gli indagati ad eludere le indagini svolte nei loro confronti. Nel corso delle attività investigative tra Spagna e Italia sono stati sequestrati circa 2,5 kg di marijuana, 71 grammi di cocaina, 16 di hashish e circa 30 grammi di pasticche di ecstasy.